C'è già stato in passato, signori, ma questa è un'occasione, possiamo dire più unica che rara, perché non capita in tutto l'arco dell'anno, ma soltanto, e tra poco ve lo dirò, ma torna intanto uno degli eventi più attesi durante l'arco dell'anno per vivere il patrimonio naturale del nostro paese. Oh, è tutta roba nostra, insomma, io ne approfitterei se avessi l'opportunità. E lo farò senz'altro a settembre, a settembre dove andrò dei giorni in vacanza e non vi lascerò assolutamente senza video, perché vi lascerò dei video programmati. Comunque si partirà, lo farò io, ma potrete farlo anche voi per queste location imperdibili di appuntamento in giardino, quindi coloro col pollice verde, coloro a cui piacciono tantissimo le piante, è roba per voi. Quindi vi faccio sapere tutto nel dettaglio. Non solo città d'arte e piccoli borghi medievali, in Italia abbiamo uno splendido patrimonio naturalistico tutto da vivere, tra giardini lusureggianti e parchi rigogliosi sparsi in tutto il paese. Sono oltre 200 quelli che, in occasione di uno degli eventi più attesi dell'anno, aprono i battenti al pubblico ospitando tantissime iniziative, torna infatti appuntamento in giardino, che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 giugno in numerose location diverse. Scopriamo le più belle. Il fine settimana si veste a festa, approfittando di giornate bellissime e di temperature sempre più calde, ormai che ci stiamo avvicinando all'estate. Torna l'appuntamento in giardino, l'evento internazionale giunto alla sua sesta edizione, si svolgerà in contemporanea in oltre 20 paesi europei, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale, ma anche artistico e storico, racchiuso nei parchi e nelle aree verdi. Per l'occasione, in Italia saranno circa 220 le location che apriranno al pubblico alcuni di essi non sono normalmente accessibili, quindi sarà un'opportunità da non perdere. Nel corso di queste due giornate straordinarie, i giardini coinvolti ospiteranno numerose iniziative. Potremo così ammirare paesaggi meravigliosi e goderci un po' di relax all'aria aperta, ma anche scoprire curiosità sul mondo animale e vegetale, per imparare l'importanza di proteggerlo. Parchi e giardini sono parte integrante e peculiare del patrimonio culturale italiano, beni vivi e vitali, dei quali avvertiamo sempre più l'intrinseca fragilità e lo straordinario valore per la collettività, ha dichiarato l'ambasciatore Ludovico Ortona, presidente dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia e Apgi. Questa è insomma l'occasione imperdibile per visitare alcuni dei più suggestivi giardini italiani. Ce ne sono diversi appartenenti al FAI e Fondo Ambiente Italiano, come il Giardino della Colimbetra di Agrigento, è un osi verde immersa nel panorama della Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più famosi del nostro paese. Altrettanto affascinante è Villa della Porta Bozzolo, in Lombardia, la splendida dimora settecentesca è circondata da un monumentale giardino all'italiana da cui si gode di una vista meravigliosa sulle colline circostanti. Apriranno i battenti anche diversi siti UNESCO, veri gioiei, riconosciuti a livello internazionale per il loro valore paesaggistico. È il caso di Villa d'Este, che ospita uno dei giardini più famosi d'Italia, si trova a Tivoli e con le sue fontane regala una visione mozzafiato. In Toscana, tra le tappe imperdibili c'è il celebre Giardino Mediceo di Boboli, parco storico situato nel centro di Firenze caratterizzato da statue e architetture settecentesche, oltre che da laghetti, ninfei e grotte. Un'altra meraviglia che merita una visita è il Giardino della Reggia di Caserta, storica residenza reale risalente al Settecento. All'iniziativa parteciperà anche dimore storiche private, il circuito che raccoglie splendide residenze ed epoca su tutto il territorio italiano. Per l'occasione, sarà possibile visitare giardini bellissimi come quello del Castello di Tiene in Veneto o quello di Villa Miralfiore a Pesaro, un magnifico esempio di parco all'italiana cinquecentesco che, purtroppo, si è conservato solo in parte. In Sardegna, invece, ad aprire le porte sarà il Giardino Botanico di Monte Arci per vivere un'esperienza sensoriale incredibile tra essenze officinali e arbusti mediterranei.